Seconda sezione dell'andante di Mozart suonata 545. Abbiamo già visto una mano per volta, quali sono le piccole difficoltà che ci possono essere e come cercare di risolverle. Con le due mani insieme si tratta di mettere in pratica quello che abbiamo già imparato a fare con una mano sola per volta. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!